La Regione Puglia si è impegnata a sollecitare ogni intervento utile per l'attivazione delle procedure per il riconoscimento dei benefici di legge ai familiari di Aurelio e Luigi Luciani, vittime innocenti di un efferrato agguato mafioso avvenuto nelle campagne di San Marco in Lamis nell'agosto dell'anno passato. Lo annuncia il presidente del gruppo popolare in Regione Puglia, Napoleone Cera. A circa un anno dal vile evento criminoso, una mozione da me presentata, scrive Napoleone Cera, in una nota, ha voluto far sentire la vicinanza delle istituzioni regionali e i familiari di Aurelio e Luigi Luciani, anche come simbolo di una comune battaglia contro ogni forma di criminalità e di contrasto a tutte le mafie che mettono in crisi il sistema produttivo e sociale della Puglia, finendo per coinvolgere persone innocenti. Chi ha ucciso i due San Marchesi, aggiunge ancora il consigliere regionale, ha voluto colpire l'integrità dello Stato e delle sue istituzioni orientate alla sicurezza dei cittadini e alla garanzia delle libertà democratiche. Per questo appare importante che la Regione Puglia, attraverso un atto formale, faccia sentire tutta la sua vicinanza ai familiari delle due vittime, così da sollecitare il giusto riconoscimento previsto dalla legge. Sulla questione del controllo del territorio sarebbe auspicabile, conclude Napoleone Cera, completare gli organici del costituendo reparto prevenzione crimine di San Severo e garantire la copertura dei posti rimasti vacanti per pensionamenti e trasferimenti dei commissariati della provincia di Foggia.